rompere gli schemi dell'asset allocation sarà il titolo del nostro intervento al roadshow road to the future l'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza che il modo di costruire i portafogli che ci ha guidato in questi anni sta cambiando la componente obbligazionaria non è più la stessa i tassi sono molto bassi bisognerà allargare lo spettro delle soluzioni di investimento obbligazionari anche la componente azionaria non è indenne a questo cambio di paradigma le logiche basate sul benchmark ad esempio con la costruzione in funzione della capitalizzazione piuttosto che sulle aree geografiche è ormai un modo inefficiente di costruire il portafoglio bisogna raguardare anche dei trend strutturali di lungo periodo che cambieranno l'economia da un punto di vista sia sociale che da un punto di vista finanziario l'obiettivo del nostro intervento è quello di guidare in questo percorso il consulente finanziario in questo aumento di consapevolezza cercando anche di illustrarvi quelle che sono le soluzioni di investimento di credit suisse a state management a disposizione delle reti di distribuzione cercheremo infine di rendere qualcosa che al momento sembra essere extra ordinario un qualcosa di più ordinario di più comune anche ai consulenti finanziario quindi vi aspettiamo numerosi a road to the future